Sicuramente avremo molto da lavorare. Sono contento perché sono riuscito a riunire persone di esperienza e nuove leve che hanno voglia di lavorare per portare avanti i nostri programmi. Sicuramente ci saranno molti errori perché fanno parte del gioco, però sono sicuro che con l'aiuto di tutti riusciremo a tornare ai valori di una volta, alle percentuali che abbiamo voluto celebrare oggi con la premiazione di Ettore Angius e di Michele Marinello. Oggi in sala c'erano tanti esponenti politici del centro-destra. Si profila una potenziale alleanza tra tutto il centro-destra per le prossime elezioni comunali o andrete divisi? Ma questo sarà da valutare perché la strada è ancora lunga. Sicuramente noi faremo pesare il nostro valore a livello nazionale in quanto crediamo di essere il punto di riferimento per il centro-destra in questo momento. Ovviamente si lavorerà sui programmi, si lavorerà sulle persone. Noi chiaramente faremo pesare anche le questioni che sono accadute nelle scorse amministrative perché è giusto ricordare quello che si è sbagliato e non ripetere gli errori.